Con fronti formativi per il personale del Comune di Morano Calabro nello splendido scenario del Convento di San Bernardino, dopo che l'Ente, per essere al passo con i tempi, ha chiesto un supporto professionale ad Infomedia. Io penso che sia un modo per adeguarsi, come dicevi tu, ai tempi. I tempi non sono ma la tempo current per i comuni, quindi bisogna attrezzarsi. Per attrezzarsi bisogna avere anche dei validi supporti professionali. Io penso che la formazione del personale, la tempistica di informazione siano elementi essenziali nell'amministrazione attuale di un ente. Se a questo aggiungiamo che il servizio ci consentirà poi anche di avere un riscontro positivo per i nostri cittadini, penso che sia il massimo che un amministratore possa fare. Chiaramente noi informiamo tutti gli uffici, gli amministratori, su quelle che sono le opportunità messe a bando dalla Regione Calabria, dai Ministeri, dall'Unione Europea, per poterle utilizzare sia come comune e sia per i cittadini, per le attività produttive in genere. Oggi siamo qui per un altro aspetto sempre del servizio infomedia che è quello della formazione e dell'aggiornamento del personale, soprattutto in un periodo particolare come questo che investe direttamente gli enti locali. Si sente parlare tutti i giorni, trasparenza, anticorruzione, nuovi bilanci, tutti i tributi, tutta una serie di cose innovative alle quali i comuni devono assolutamente attenersi. Ho voluto, in maniera forte, partire dai dipendenti del LEND, perché partendo dai dipendenti voglio dare il segnale che siamo tutti al servizio della gente, non è la gente al nostro servizio.